1, vai! 500 alla prima variante, destra 2, per sinistra 3 100 destra 5 attenzione chicane, entri da sinistra per 2 200 alla roggia, sinistra 2, per destra 3 200 alla prima lesmo, destra 4, vai! 200 alla seconda lesmo, destra 3 400 attenzione chicane, entri da sinistra per 3 500 alla scari, sinistra 3, per destra 4 per sinistra 4 200 500 attenzione chicane, entri da sinistra per 3 500 500 alla parabolica, destra, per inversione destra, per sinistra, vai! 100 100 chicane, entri da destra, per 3 300 300 inversione destra, per inversione sinistra 100 200 200 200 chicane, entri da sinistra per 6 150 inversione sinistra per destra 500 500 500 500 alla prima variante, destra 2, per sinistra 3 100 500 destra 5 500 chicane, entri da sinistra per 2 200 Alla roggia sinistra 2 per destra 3 200 Alla lesmo destra 4 vai 200 Alla seconda lesmo destra 3 Bravo Nico 400 Shikan entri da sinistra per 3 500 Alla scari sinistra 3 per destra 4 per sinistra 4 Bravo Nico Vela 200 Shikan entri da sinistra per 3 500 Alla parabolica inversione destra per sinistra vai 100 Shikan entri da destra per 3 300 Inversione destra per inversione sinistra 200 100 Shikan entri da sinistra per 6 150 Inversione sinistra per destra 500 500 Ultimo giro eh Vai Alla variante destra 2 per sinistra 3 100 500 Destra 5 5 Shikan Entri da sinistra per 2 200 Alla roccia sinistra 2 per destra 3 200 Alla prima lesmo destra 4 vai 200 bravissimo, seconda all'esmo, destra a tre, quattrocento, chicane entri da sinistra per tre, cinquecento, sinistra alla scari, sinistra a tre, per destra a quattro, per sinistra a quattro, duecento, attenzione chicane entri da sinistra per tre, cinquecento, alla parabolica, inversione destra per sinistra, vai, bravissimo Nico, cento, chicane entri da destra per tre, trecento, inversione destra per inversione sinistra, fine, bravissimo Nico. Grazie 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 Grazie